Ok ragazzi, sabato 26 ottobre in Abbiategrasso, Piazza Castello numero 1, ci sarà una diretta con Rosario Riggio, autore del romanzo Tauto, insegnante ed esperto anche di fake news, comunicazione e ovviamente, come viene chiamata oggi, guerra ibrida. Ora, quando sei nato e cresciuto in una nazione dove ha sempre governato lo stesso presidente, con lo stesso partito, e tutti i suoi oppositori sono dovuti fuggire per non finire sottoterra, che cosa potrà mai andare storto? Sapete quando ho scoperto che Zio Vladi non era un presidente amato dal suo popolo come tutti gli altri, ma solo ed esclusivamente un ospitato dittatore? L'ho fatto qualche anno fa, piuttosto tardi in effetti, visto che Zio Vladi è al potere più o meno dal 1999 o giù di lì, vedendo un documentario tedesco, che mostrava immagini come queste. Ragazzini giovanissimi che indossano delle uniformi paramilitari, imparano a maneggiare le armi, ma soprattutto giurano fedeltà non alla federazione russa, al loro stato, no, al loro presidente e al suo partito, Russia Unita. Attraverso quel documentario tedesco, mai tradotto in italiano, ho scoperto che a scuola il preside non è un fedele servitore dello stato della federazione russa, no, è un fedele esecutore degli ordini del suo partito, la cui bandiera campeggiava nel suo ufficio. C'era anche naturalmente l'immagine di Vladimir Vladimirovich Putin, a cui egli era particolarmente devoto, ma anche qui non era devoto alla figura istituzionale del presidente, era devoto proprio alla persona di Zio Vladi, e questa devozione la passava automaticamente a tutti i suoi studenti, che erano, e purtroppo sono ancora, caldamente invitati a unirsi a quel piccolo esercito chiamato, non a caso, Yunarmigia. Indipendentemente dal fatto che tu possa entrare giovanissimo in questa organizzazione, o perché i tuoi genitori sono troppo occupati e poveri per pagarti un doposcuola privato, o perché letteralmente gli insegnanti fanno pressione perché tu ti iscriva, sta di fatto che in questo doposcuola si impara che Zio Vladi è il buono e che tutti gli altri sono brutti, cattivi e decisamente puzzoni, al servizio di agenti stranieri che vogliono soltanto distruggere Zio Vladi e soprattutto la grande madrepatria russa. E' stato in quel preciso momento che ho capito che la televisione italiana, quando parlava dell'annessione della Crimea, della rivoluzione del Donbass, stava semplicemente ripetendo a pappagallo la propaganda di un regime liberale. E detto fra di noi, questo regime aveva scelto l'Occidente, cioè noi, come suo nemico per mantenere saldo il popolo e fare quadrato attorno al suo dittatore. Da allora sono passati molti anni, ma non solo la Junarmigia è rimasta. I fondi per l'indottrinamento dei giovani sono cresciuti a dismisura. Secondo una recente indagine, Zio Vladi, oltre a spendere circa il 40% del budget statale in carri armatini, proiettili di artiglieria e soldatini che spesso e volentieri si rompono sul fronte e vengono gettati nella spazzatura proprio entro un mese dall'acquisto, Zio Vladi spende l'equivalente di 500 milioni di dollari per finanziare due organizzazioni giovanili. La Junarmigia, che abbiamo già citato, è il Movimento dei Primi, che, se non sbaglio, è pronunciato all'inglese Movement of the First. Ora, ad un occhio moderno e inesperto, queste organizzazioni sono la bella copia modernizzata della Jugend Legend e dei piccoli Balilla. Solo che, invece di essere neri e bruni, le divise hanno qualcosa di rosso e hanno una bella stellazza rossa a 5 punte, un aquilotto stilizzato, cose del genere. Ma, ad uno sguardo più approfondito, sono in realtà l'evoluzione, oltre che il ripescaggio e la lucidatura, di due organizzazioni giovanili dell'epoca sovietica, perché anche in Unione Sovietica c'erano organizzazioni simili a quelle italiane del ventennio e, naturalmente, a quelle bipiste degli anni Trenta. Queste due organizzazioni erano notoriamente i giovani pionieri e i piccoli ottobrini, penso si chiamassero così in italiano. Il punto sta nel fatto che queste due organizzazioni erano pensate per creare dei buoni cittadini, sovietici, naturalmente. I bambini andavano in queste organizzazioni, imparavano a fare cose. Viceversa, qui, per esempio, nella Yunarmigia, imparano a usare le armi. Quindi c'è stata una specie di evoluzione malvagia all'interno di queste associazioni. Poi, in epoca sovietica, quando crescevi e passavi da bambina ad adolescente, più o meno dall'età di 14 anni in poi, c'era un'altra associazione, il Comosol. Questa associazione non reclutava, questa associazione giovanile, non reclutava soltanto gli adolescenti dai 14 ai 19 anni, ma dopo essere stato reclutato, potevi restare fino ai 28 anni e partecipare a questa associazione era fondamentale se ambivi a posizione di potere all'interno del Partito Comunista oppure nell'esercito. era proprio una condizione sine qua non per fare strada. Attualmente non mi risulta che in Russia esista l'equivalente di questa associazione. Però la Yunarmigia è certamente l'equivalente sotto steroidi dei piccoli pionieri, dei giovani pionieri, scusatemi. La Yunarmigia è stata creata dal Ministero della Difesa, il che è già indicativo, nel 2016 e come ho anticipato serve a preparare i bambini sotto il profilo militare e sotto il profilo politico. Lo scopo è quello di combattere gli estremisti e gli agenti stranieri. Come li combatti gli estremisti e gli agenti stranieri? Per prima cosa imparando le tradizioni russe. La patria prima di tutto. Poi naturalmente devi imparare anche a combattere e devi soprattutto imparare a odiare il nemico, se no come lo combatti un nemico che non odi. Si stima che la Yunarmigia conti adesioni spontanee e spintanee per un totale di 1.600.000 bambini adolescenti. Un numero di tutto rispetto se calcolate che la Russia è in piena crisi demografica. Il movimento del primo invece è stato creato praticamente in concomitanza con lo scoppio della guerra in Ucraina e simbolicamente per ricollegarsi ai giovani pionieri è stato creato esattamente 100 anni dopo l'istituzione del movimento originario. Pare che Zio Vladi volesse inserire pionieri nel nome ma poi suonava troppo americano e ci ha rinunciato optando per Movement of First. Lo scopo del movimento è naturalmente quello di servire la patria e tutti coloro che ne fanno parte sono legati da un unico indissolubile destino. E a peggiorare le cose le prime due sedi di questo movimento sono state aperte proprio nella Crimea occupata e nel Kherson. Questa organizzazione per il suo funzionamento ha ricevuto un fondo anzi ha ricevuto contributi annuali per l'equivalente di 200 milioni di dollari. Se ci pensate 200 milioni di dollari corrispondono al budget militare di una nazione medio piccola come per esempio la Lettonia o la Lituania o la Georgia. E naturalmente il governo russo non rientra dell'investimento facendo costruire le reti mimetiche le candele da trincea oppure ancora i droni ai ragazzi che fanno parte per l'appunto di questo movimento del primo. Naturalmente anche questa organizzazione militarista e ci sono eventi come i colloqui con gli eroi ovvero con i reduci dell'operazione militare speciale. Lo scopo dichiarato ma non apertamente dichiarato è quello di fare il lavaggio del cervello agli adolescenti per convincerli a sacrificare la loro vita sull'altare di Zio Vladi. Questa organizzazione secondo il governo russo conta 4 milioni e 700 mila aderenti e Zio Vladi li ha definiti un grande esercito. Il suo scopo era mostrare quello che la Russia aveva fatto negli ultimi 10, 15, 20 anni. Queste organizzazioni sono state utilissime anche per spazzare via il dissenso e soprattutto gli aneliti di libertà che erano giunti quando Navalny ha avuto il suo momento di gloria nel 2018 o giù di lì. A quell'epoca naturalmente il movimento del primo non esisteva ancora ma la Junarmigia sì e esistevano come esistono tuttora altre associazioni patriottiche. Zio Vladi per contrastare Navalny non fece altro che finanziare queste organizzazioni per contrapporre la politica di Navalny decisamente più aperta e cooperativa verso l'Occidente con i sani valori patriottici di una volta e ovviamente alla fine vinse. Al giorno d'oggi i giovani che dissentono è meglio se stanno zitti e dissentono in silenzio o in sedi molto private perché viceversa c'è il rischio di essere segnalati denunciati e anche perseguiti. Stando ai dati ufficiali nei primi sei mesi del 2024 Zio Vladi è riuscito a reclutare circa 190.000 persone. Ora è probabile anche se non possiamo dirlo con certezza perché le statistiche su circa l'età dei volontari che si sono arruolati non sono mai stati resi pubblichi è comunque probabile che la maggior parte di queste persone abbia un'età compresa fra i 18 e i 30 anni per due motivi. Primo la propaganda funziona e le persone che attualmente hanno 18 anni non hanno mai 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 conosciuto un mondo diverso da quello costruito da Putin. Quindi vivono in una loro bolla hanno le loro convinzioni e sono pronti a fare di tutto per il loro presidente esattamente perché sono stati ammaestrati per fare così. Il secondo motivo è che Zio Vladi ultimamente paga abbastanza bene lo abbiamo detto diverse volte al momento attuale una recluta russa guadagna molto di più rispetto a una recluta americana anche se poi in realtà la recluta americana ha qualche benefit in più tipo il non finire al fronte entro due settimane dall'arruolamento la recluta russa questi benefit non li ha non ha neanche un addestramento vero e proprio però finisce lo stesso al fronte e guadagna circa l'equivalente di 10.000 dollari in più se non erro gli americani il primo anno stanno sui 40.000 dollari di stipendio i russi grazie a tutti i benefit raggiungono i 50.000 e se ho ben interpretato alcuni articoli di giornale russi addirittura in alcuni casi adesso si arriva a 60.000 65.000 perché si hanno dei bonus una tantum all'arruolamento e infine zio vladi ha mobilitato anche la scuola se da noi in occidente abbiamo l'ora settimanale di educazione civica in russia c'è invece l'ora delle cose importanti e queste cose importanti sono ovviamente le tradizioni russe contrapposte a quelle dell'occidente decadente naturalmente l'occidente viene raccontato come se fosse una distopia ricorderete tutti la pubblicità di quei russi che vogliono fuggire dalla grande madre patria ma finiscono su un aereo walk che più walk non si può e alla fine si gettano dal portellone principale con i paracaduti per tornarsene a casa perché non riescono a inginocchiare non hanno proprio voglia di inginocchiarsi davanti al nero che deve andare in bagno e salta anche la fila in pratica la russia viene esaltata e l'occidente viene banalizzato e raccontato in maniera decisamente caricaturale ora zio vladi non si è limitato comunque a questo sempre dall'inizio del 2023 se non erro ha anche fatto riscrivere libri di storia e di letteratura perché pochi se lo ricordano ma per esempio ci sono moltissimi autori anche italiani che sono censuratissimi per esempio se ordinate un libro di Pasolini in russo scoprirete che più della metà è stato coperto da inchiostro nero sono tutte le parti censurate che non possono essere lette dai russi similmente anche con determinati autori George Orwell è letteralmente scomparso perché è scomparso perché zio vladi utilizza esattamente buona parte dei metodi che sono descritti in 1984 compresa la riscrittura della realtà perché i libri di storia sono stati per l'appunto alterati pesantemente soprattutto nella parte che riguarda la seconda guerra mondiale periodo della guerra fredda noi occidentali siamo tornati a essere quelli brutti cattivi puzzoni mentre invece i russi sono gli eroi che praticamente da soli hanno sconfitto il bipismo ovviamente non si fa riferimento al patto Molotov-Ribbentrop alla spartizione della Polonia alle parate con i cuginetti tedeschi e roba del genere faceva male alla pubblicità putinana quindi al momento attuale la situazione è quella che è abbastanza complicata è indubbio comunque che i giovani russi siano sottoposti a un incessante bombardamento della propaganda e a veri e propri lavaggi del cervello perché ripeto devono stare a contatto con queste realtà per diverse ore al giorno ogni giorno quindi è inevitabile che ne risentano la situazione è recuperabile può essere superata sì certo Zio Vladi non è il primo che si inventa un corpo paramilitare per ragazzini che vengono condizionati è già stato fatto è già stato fatto nel ventennio italiano con i Balilla i piccoli Balilla se non erro è stato fatto ovviamente nella Germania bipista con la Jugend legend al momento attuale i tedeschi sono i campioni della democrazia quindi direi che eventualmente una volta accaduto il regime di Zio Vladi si può anche costruire la democrazia in Russia è stato fatto in Germania può essere fatto anche lì e voi che cosa ne pensate come sempre fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto se poi vi piacciono i miei video ricordatevi di premiarli iscrivetevi al canale attivate la campanella condividete il link al video sui social che frequentate e naturalmente lasciate un mi piace grande e grosso per voi sono solo pochi click ma per il canale significano davvero tanto inoltre se non farete assolutamente nulla di tutto ciò in un futuro alternativo remoto e decisamente eventuale potreste ritrovarvi con dei libri di storia che spiegano come Zio Vladi ha salvato il mondo nel 2022 da un'invasione di cyborg satanisti ucraini io vi ho avvisati poi fate voi come sempre grazie di tutto per tutto e a presto